Signori, bentornati in un nuovo video flash. Senza preamboli, andiamo dritti al sodo. La Ghost Galaxy ha annunciato i nuovi formati da torneo e ai già noti Sealed e Arconte sono stati aggiunti il Second Ember, dedicato a tutti i forgiatori che non hanno avuto fortuna nei tornei principali che quindi potranno partecipare, grazie proprio a questo specifico formato, a degli eventi di consolazione, e l'Alliance. Che cos'è? Detto in parole povere, potrete, grazie ad esso, prendere tre vostri mazzi che non avete mai utilizzato, selezionare una singola casata per ogni unico, quella che riterrete più valida, per unirle in seguito in un mazzo completamente nuovo, pronto per dire la sua in competizioni organizzate. Bello vero? Una grande fetta della community però non è stata dello stesso avviso, ma analizziamo con calma sia i pro che i contro. Da una parte ci sarà certamente la possibilità di spolverare i vecchi mazzi lasciati a dormire nei cassetti, andandoli ad assemblare tra di essi, formando nuove possibilità ed orizzonti mai coperti, fino ad ora, per il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo, evitando anche il fenomeno dei mazzi orfani, ovvero quegli unici aperti, registrati, e poi abbandonati a se stessi perché non ritenuti competitivi. Dall'altra invece questo concetto sembra suonare molto come una sorta di deck building sotto mentite spoglie, calcolando inoltre che se tutto dovesse andare in porto, questa modalità rischierebbe davvero di diventare la norma per Keyforge, denaturandone l'essenza in modo definitivo. Ma nessuna paura, non tutto è perduto. Come abbiamo già visto, la Galaxy tende sempre un orecchio volto all'ascolto della community. Inoltre dalla casa madre hanno specificato sul sito ufficiale che tutti i format, sealed ed arconte compresi, sono attualmente in fase preliminare e verranno valutati in modo appropriato durante e soprattutto la Keyforge Celebration 2022, che si svolgerà dall'11 al 13 novembre presso le sedi della Game Center, vicino agli uffici della Ghost. Cosa dire, staremo a vedere se questo nuovo formato arriverà ad essere ufficializzato o se sarà stata solo una proposta rifiutata a gran voce da una moltitudine di forgiatori presenti sul croggiolo. Conoscendomi prima di rifiutare a priori una proposta, di sicuro testerò questo nuovo metodo di gioco per testarne l'efficacia. E voi, come avete preso questa notizia? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Inoltre, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram se vorrete scoprire altre notizie provenienti dal croggiolo.